La prima domanda era il superamento della capacità di infiltrazione significa che il terreno è saturo e pertanto non è possibile che avvenga l'infiltrazione. La seconda risposta era che la conducibilità idraulica del terreno è inferiore alla precipitazione. Evidentemente la risposta giusta è questa, anche se dobbiamo ricordare che non è solo la conducibilità idraulica del terreno che entra, perché di fatti nella formula dell'infiltrazione la precipitazione, perché si genera il riuscellamento, la precipitazione deve essere minore di Kθ più Kθ per Deψi su Dez. Quindi c'è anche un termine che dipende da Psi nell'infiltrazione, però in linea di massima la condizione che la precipitazione sia superiore alla conducibilità idraulica è la risposta giusta. Il riuscellamento duniano invece è quello che avviene su terreni già saturi, quindi la risposta giusta la maggior parte delle persone è la danza correttamente. Ed evidentemente, se vi ricordo, la differenza sostanziale tra i due processi dal punto di vista della prevedibilità dei processi è che mentre nel caso del riuscellamento ortoniano noi dobbiamo sapere quanto sono le precipitazioni, quant'è l'intensità di precipitazione e sapere ovviamente qual è l'infiltrabilità del terreno e confrontarli, il riuscellamento duniano ha una fase di preparazione molto lunga che può durare settimane o addirittura mesi, cioè perché è il deflusso laterale che riempie il suolo e quindi lo rende saturo, non necessariamente la pioggia che cade nel punto che stiamo analizzando. Laterale, forse il movimento laterale nel versante forse non è un concetto che vi ho chiarito, i movimenti che avvengono nei versanti, nella direzione diciamo della pendenza, si chiamano movimenti laterali. Questi sono i movimenti verticali invece, evidentemente il movimento laterale ha una componente anche orizzontale, ma siccome avviene su un piano inclinato si chiamano laterali. Lo scellamento ortoniano e il superamento della capacità di infiltrazione sono il medesimo concetto? Esattamente, sono due nomi per la stessa cosa e pertanto non sono due modi di vedere il processo, sono esattamente, significano esattamente la stessa cosa. Capisco, avrei fatto la domanda ambigua apposta per vedere che cosa avreste risposto. Anche la domanda successiva è stata ambigua, l'infiltrazione è modellata dall'equazione di Richards, modellata dalla legge di Darcy, modellata dalla legge di Buckingham o non so. E di fatti l'ambiguità della domanda ha generato un'ambiguità nella risposta. Se io dovessi scegliere, direi però che la risposta B è sbagliata, nel senso che la risposta B assume, comunque la legge di Darcy assume la saturazione, cioè assume che K che teta, assume che teta sia uguale a F con S la B. E questo non è il caso generale. Casomai la risposta C potrebbe essere una risposta che il flusso in questo caso è generato certamente dalla legge di Buckingham, però diciamo l'equazione che ci dà teta verso la profondità z è l'equazione di Richards, quindi la risposta A è quella più corretta. Il ponding, cioè la formazione del flusso di una parte, di una lamina d'acqua sulla superficie. Si forma in entrambi i casi, sia che il ruscellamento sia di origine dunniana, sia che sia di origine ortoniana, cioè l'acqua che si forma, il ponding o la formazione appunto di un velo d'acqua superficiale, meglio uso l'inglese perché è una parola sola, piuttosto che l'italiano per cui ho bisogno di una circonlocuzione. Una pozzanghera si forma per entrambi i motivi, quindi la C è la risposta giusta. Quando si forma l'uscellamento dunniano, l'infiltrazione è completamente bloccata, continua ad avvenire, ma qua non ricordo la risposta, vediamo se la riesco a recuperare. Eccolo qua, clicca generazione runoff. L'infiltrazione è completamente bloccata, l'infiltrazione continua ad avvenire, ma solo se il terreno drena verso il basso. L'infiltrazione avviene, ma sempre più lentamente, non so. La risposta giusta è, in questo caso, l'infiltrazione continua ad avvenire, ma solo se il terreno drena. Ho messo verso il basso, quindi sarebbe questa. Non è che avviene più lentamente, perché nel caso dell'infiltrazione, la forma di ruscellamento dunniano presuppone che il suolo sia saturo. Quindi se il suolo drena sotto, allora pian piano questa saturazione dunniana diminuisce e permette un'infiltrazione, altrimenti no. In effetti, io vi ho fatto vedere un esempio, in cui uno degli esempi che vi ho fatto vedere, si vedeva che l'infiltrazione, la velocità di infiltrazione, chiamiamola I qui, la velocità di infiltrazione faceva così, fino a un certo punto, la pioggia era costante, cioè era massima all'inizio, poi improvvisamente, quando cadeva, e c'era ancora un po' di infiltrazione, ma molto bassa. Ma quella condizione, se andate a rivedere la lezione, le slide, era su una colonna di suolo e qui era permesso il flusso. Proprio per questo permane questa condizione di infiltrazione. Quando avviene il rusciolamento ortoniano, l'infiltrazione è completamente bloccata, l'infiltrazione avviene, ma sempre più lentamente. In questo caso, la risposta giusta è questa. Scusate che vediamo cosa ho scritto esattamente, perché l'infiltrazione, è l'usciolamento ortoniano. L'infiltrazione avviene, ma sempre più lentamente. La risposta giusta è la seconda. Qui forse... in particolare, nell'infiltrazione ortoniana, se ricordate, l'andamento dell'infiltrazione era massima all'inizio e poi c'era una bella curva che decresceva esponenzialmente nell'esempio che vi abbiamo fatto. E sì, esistono anche, e ve l'ho detto anche l'altra volta, esistono dei modelli di infiltrazione semplificati che utilizzano appunto questo andamento e dicono che questo andamento va come una curva e al meno KT. Però questo è un altro discorso che non andiamo a ricordare ancora. I muoti laterali verso il canale, adesso vi ho spiegato cosa sono i muoti laterali, quindi la risposta è più chiara, ma comunque avete risposto correttamente, la risposta corretta è la C, avvengono sia sulla superficie che evidentemente nel sottosuolo. Quando si forma una falda sospesa l'infiltrazione cessa, continua anche nei mezzi meno conduttivi, non so. Beh, i ragionamenti che abbiamo fatto prima ci dicono che in realtà continua anche nei mezzi meno conduttivi. Se poi andate a rivedere, questo lo dovreste fare, le simulazioni che io vi ho mostrato, anche quella bidimensionale, vedete che una certa profondità magari nei punti c'era quella bidimensionale era quella in cui c'era un fondo di argilla così e sopra c'era della sabbia. Nell'infiltrazione bidimensionale vedete che in prossimità qui a un certo momento si forma una piccola faldina ma dopo tutto l'infiltrazione comunque continua nel corso del tempo, in particolare essendo qui il fenomeno bidimensionale oltre che questa è una X e questa è una Z essendo il fenomeno bidimensionale c'è tutta una dinamica che è molto complessa e vedete che i stati finali poi sono uno stato in cui vi è comunque un 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 contenuto d'acqua più o meno diffuso su tutta la matrice e quindi l'infiltrazione continua. Continua in verità anche all'interno della dell'argilla perché noi diciamo sì che l'argilla è poco conduttiva e quando diciamo ci sono delle lenti di argilla manifestiamo l'idea che tutto si muove molto lentamente però anche nei mezzi meno conduttivi l'acqua si muove molto più lentamente e nel caso che avevamo preso noi come esempio era una porzione di terreno molto piccola perché la base era 5 metri quindi questo spiega anche il fatto che sembra che tutto si si diffonda molto velocemente in realtà era anche il volume di controllo che era relativamente piccolo in un regime stazionario le parti di un versante che si saturano prima sono quelle ad area a maggiore e pendenza più piccole cioè dovrebbe essere questa la risposta giusta anche se ne vedo solo perché nella condizione che noi avevamo ottenuto la condizione che si otteneva era che il rapporto R su TK che era il rapporto fra tra precipitazioni e trasmissività idraulica adesso rischio di dirvi una cosa sbagliata perché non mi ricordo se è questo o l'inverso ma il fattore che conta era presentato così l'area contribuente diviso il gradiente della topografia per B quindi è quello che si vede che i punti che si saturano prima sono quelli che hanno A più elevato e pendenza più piccola e quando questo fattore è grande avviene più facilmente la saturazione di natura duniana la saturazione ortoniana si chiama anche dall'alto perché abbiamo visto anche l'esempio nella capacità di infiltrazione la parte che si superando la capacità di infiltrazione si satura lo strato superficiale che poi migra verso il basso questo avevamo detto anche se in profondità magari è presente un'altra falda ma la parte intermedia generalmente può essere insatura il deflusso superficiale nei versanti ha generalmente un tirante dell'ordine di qualche centimetro qui non c'è stato dubbio sulla risposta e questo erano i tiranti che avevamo visto nelle simulazioni che abbiamo prodotto i risultati si riferivano a valori di conducibilità idraulica e delle sia delle condizioni del terreno che delle proprietà delle precipitazioni abbastanza normali e questa era l'ultima domanda quindi complessivamente ci sono alcune risposte che sono dubbie ma in generale le risposte che avesse dato sono relativamente corrette chi ha risposto in modo sbagliato o mi faccia delle domande ulteriori o si faccia delle domande lui stesso o lei stessa e certo nell'esame io vi chiederò naturalmente anche di scrivere un po' di formule relativamente a queste cose vi caricherò dopo questa lezione un breve sondaggio a cui vi chiederei di rispondere possibilmente entro oggi sulle modalità con cui potremmo eventualmente fare poi la prima parte dell'esame per chi la può fare allora io vi propongo alcune opzioni sulla modalità e voi dovete rispondere rispetto quelle che siete in grado di mettere in atto ma comunque vediamo dopo ci sono delle domande se non c'è nessuna domanda direi che possiamo